Il Regno del Kebab, Piazzetta Perna 7-8, Via Carducci, Angolo Via Piave, chiuso il martedì. Per salutare l'inizio del nuovo anno presso la Casa di Riposo 8 Marzo di San Tommaso, l'Associazione Polifonica Corale D'Uomo si esibita nel tradizionale concerto di canti natalizi, un momento di ulteriore aggregazione per gli ospiti della prima comunità tutelare del Capolù Ghirpino, i medici, gli infermieri e l'intero personale della moderna struttura. L'iniziativa, resa possibile grazie alla disponibilità del coro della Cattedrale di Avellino, è stata voluta da tutti i responsabili della Casa di Riposo, un regalo per i nostri nonni, come ha dichiarato il coordinatore dottor Francesco Castagnozzi. Il concerto della Corale D'Uomo rappresenta il culmine di tutti gli eventi che abbiamo organizzato in questo periodo natalizio, per questo ringrazio in primis il direttore Carmine Sant'Anil e tutta la corale, tutti i componenti. Questo è anche un regalo che ci siamo fatti noi struttura per i primi sette mesi di attività, sette mesi in crescendo e siamo molto felici perché abbiamo avuto delle grandi soddisfazioni, non solo professionali ma soprattutto umane. Siamo riusciti a costruire un team di persone, non di professionisti, che oltre ad essere molto bravi tecnicamente sono soprattutto dei professionisti, in questo caso con un cuore. Quanto sono importanti queste iniziative per i vostri ospiti che, come dicevamo prima, già quotidianamente sono a contatto soprattutto con i giovani, perché voi siete tutti giovani, giovanissimi oserei dire. È vero, il team è molto molto giovane, siamo quasi tutti under 40, quindi questo ci aiuta a rapportarci in modo molto umano e molto comprensivo con i nostri ospiti. Siamo più dei nipoti che un team di professionisti che lavorano per loro.